del Comune. Ben detto, abbiamo questo grosso problema nel territorio di Altino dove gestire tutto questo spazio demaniale all'interno del perimetro del Comune molto spesso diventa luogo di abbandono di rifiuti non solo delle persone del nostro Comune ma, ripeto, molto spesso anche dei territori circostanti. Un problema grave, ormai non più rinviabile in termini di impegno anche da parte di noi amministratori. Oggi, questa mattina, insieme a Enrico, il sindaco di Fossa Celsia ci siamo fatti portavoci di un grido d'allarme che tutte le amministrazioni lanciano ai propri cittadini perché questi comportamenti si limitino il più possibile perché questi comunque sono costi aggiuntivi che vanno a gravare sulle casse familiari e molto spesso determinano anche per i Comuni esposti economici veramente importanti. Quindi abbiamo sollecitato qui all'interno della sede Ecolan anche la Ecolan affinché possa farsi carico di un'attività informativa all'interno anche delle scuole perché crediamo fondamentalmente che questo fenomeno si possa combattere soprattutto formando le nuove generazioni a un senso di responsabilità maggiore rispetto a questo fenomeno che sta toccando livelli di inaccettabilità molto elevati. E spesso si è notato aprendo queste buste cercando di risalire appunto a chi non rispetta le regole sono cittadini residenti in altri territori libitrofi? Sì, dicevo proprio questo, molto spesso ma credo che poi questo accada a cascata anche negli altri Comuni ci si trova magari a trovare all'interno di queste buste operazione che faccio anche io quasi quotidianamente magari nominativi o persone quindi di altri Comuni credo ecco che come amministratori abbiamo l'obbligo di sollecitare le nostre comunità un'attività più puntuale nella raccolta dei rifiuti e anche una collaborazione maggiore dal punto di vista insomma delle segnalazioni.